Ciao ragazzi, volevo presentarvi questo prodotto, questo qui, il Fish Care. Che cos'è il Fish Care? Il Fish Care non è altro che un insieme di vari prodotti utilizzati per evitare contaminazioni ai nostri acquari contenenti dei Discus. Sarebbe un peccato per qualche pesciolino acquistato e immesso nel nostro acquario contenente un bel quantitativo di Discus che venga infettato da qualche parassitosi. Per evitare questo si può trattare questi nuovi inquilini che andremo a mettere con i nostri Discus con questo prodotto qua, Fish Care. Fish Care si scioglie in un contenitore di circa 10 litri d'acqua, questa è in polvere, si scioglie in questa polvere in un contenitore di circa 10 litri d'acqua e si immergono i nuovi pesciolini che abbiamo acquistato, appena acquistato, per 15 minuti. Si tengono a bagno questi nuovi inquilini per 15 minuti in un secchio d'acqua con questo prodotto qui. Questo prodotto qui ci ha parte di circa il 95% dei vari parassiti che potrebbero portare i nostri nuovi inquilini verso i Discus. Quindi è opportuno fare questo bagno con questo prodotto qui e siamo molto più sicuri che i nuovi inquilini non ci contaminino un acquario ben avviato con i nostri pesci. Sappiamo che il Discus è un pesce molto soggetto a parassitosi intestinali che gli possono essere trasmessi da altri pesci che potrebbero essere portatori sani, cioè loro non moriranno, moriranno, si ammaleranno, ma potrebbero danneggiarci i nostri Discus. Quindi, ripeto ancora una volta, Fish Care serve per filtrare, per prevenire eventuali infestazioni portate da altri nuovi pesci ai nostri Discus presenti già in acquario. Quindi, vedete, vi linko sotto dove poterlo trovare, il prezzo e tutto quanto, e ulteriori informazioni. È un prodotto made in Germany, quindi, come sappiamo, di altissima qualità. I tedeschi ammirano molto sulla qualità dei loro prodotti e sul benessere dei Discus. E in più, è un ottimo prodotto, vi invito a provarlo per il bene dei vostri Discus. Vi saluto, vi auguro un buon anno, una buona fine e un buon inizio 2019, e ci rivedremo presto per altri video sul mio canale. Seguitemi, semmai proponetemi qualche video, qualche argomento che potrei trattare. I miei Discus, Omnia Pet e io, Peppe, vi do un buon anno, e grazie a tutti di aver riposto in me fiducia. Grazie, al prossimo video. Ricordate, Fish Care.